Questa sera è stata una serata ricca di emozioni, sul palco tanti amici che si sono ritrovati, un grandissimo, straordinario Dario Vergassola che ha alimentato proprio con il suo omorismo, con la sua verve tutto il pomeriggio, Dori Ghezzi felicissima di aver ricevuto la cittadinanza onoraria, Antonio Ricci uno splendido padrone di casa, Franco Fasano, ma il mio grazie va a tutti, Alda Scolese, a Stefania Fratepietro che finalmente ha riscosso un successo importante sul palcoscenico della sua città. Siamo felici, il compito di Ottobre di Andrei che si era proposto è quello di regalare emozioni, continuiamo a regalarne e siamo molto contenti.